Ok, proviamo. Ehm, come ti va, Clyde? Bene. Che cosa succede? Eric e Jimmy hanno creato la barzelletta del secolo. Dimmi, Clyde, ti piacciono i bastoncini di pesce? Certo. E ti piace anche infilarteli in bocca? Ma sì. E cosa sei, Clyde? Un pesce gay, forse? Hai detto che ti piace metterti il bastoncino del pesce in bocca? Sei un pesce gay!